care amiche ed amici qui ancora una volta il vostro sante in chan giusto perché mi sono svegliato molto presto e do tempo vi voglio fare un'altra lettura del libro di nino frassica il libro di sani gestuali e lo faccio con questa vecchia web camera in questo modo posso leggere molto e poi direttamente rimane youtube tata guardate che risoluzione d'immagine va bene caccia fa a capa eravamo arrivati a pagina 30 no ecco qua pagina 20 io pensavo di aver letto fino a pagina che qua c'è il modulo per partecipare comunque e per un chi al concorso cuore toro anche se questo nanetto era molto breve e nella caratteristica dei nanetti essere brevi spiegava quasi il b e il ba della nascita di un qualche cosa sani gesualdi era l'idea però sani gesualdi era dell'idea che parlare serve a dire b se vuoi dire b e base vuoi dire b a lui in fonti in fonti il suo fare era preciso lui si occupate a suo tempo diresti legge di non lo faccio più non mi sbaglio più lui si occupate a suo tempo di testi regia musiche montaggio smontaggio imballaggio del concorso cuore toro e fube lui che pensa a una scheda per partecipare al concorso così formata vabbè qua ci sono dei giochi di parole nome cognome parente indirizzo codice fischiale iva sia e patente libretto triangolo telefono affisso il mio comportamento pulito e il signore alberi forse intendeva dire arbore il signore il signor alberi e la persona il quale debbo ringraziare più di tutti per il suo interessamento il suo spezzare le lance a favore del concorso cuore toro e anche per avere fatto conoscere sani gesualdi in tb io non avevo bisogno di essere lanciato anche perché già ero molto conosciuto che avevo partecipato due volte a due grossi festival dell'unità di arena cs ea quello di villa san giovanni rc e poi avevo anche fatto l'animatore al gioco festa organizzato dal teatro club di messina per cui noto prima noto dopo e uguaglio il signor alberi e un grande artista da me preferito di quel modo di bere la birra sino a suonare le canzoni col chiarinetto ha fatto pure dell'ironia su renzo arbore e un mio fans sin dai tempi della radio che lui ha fatto con buon compagni merenghi branduardi alto grandimento il bello è che quando scrive delle cose correttamente uno alto gradimento sin dal 1921 poi l'alta domenica poi il capocchio poi il film fifì sì 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 cosa mi hai portato a fare che non volevo venire a possibili a possibili co è veramente un mio fans grazie grazie per me per sani per il concorso cuore toro ecco che arrivano come una balena i nuovi premi in paglia un nuovo vasto assorbimento di premi grazie anche moltucci a uco porcello gianni minori giussi rubiluova e tutti quelli che si sono interessati al riuscimento del programma di quelli di note e naturalmente grazie alla rai radio ascoltatori italiani nuovi premi in paglia elenco dell'elenco elencato in questo elenco elencato in elenco numero uno un viaggio gratuito per due persone all'urz con miracolo gratuito numero uno un'altra confezione di numero uno una nuova confezione di numero uno un best post a colori di toto cutugno numero uno un televisore a 99 colori numero uno una lavatrice vecchia 4 quarto vedi quinto sesto vedi settimo ottavo vedi non mio numero uno una bella borsa di un coccodrillo numero uno un viaggio a proprie spese a londra parigi vienna che se praticamente una persona vince questo premio avrà diritto a proprie spese a un viaggio ma soltanto è unicamente a londra a parigi oa vienna a proprie spese nome nota bene nuota bene nb nuota bene il viaggio può anche essere valido per due o più persone persone dipende dalle possibilità economiche del concorrente oltre al signor alberi grazie a tanti e tanti altri collecchi e funzionanti che si sono comportati puliti con me che hanno pallato bene del concorso cuore toro e principalmente di sani grazie a uco porcello coautore giussi rubiluova gianni minori lydia rivera funzionanti bravi della rai già lì sin dai tempi delle iar dicono che già giorno che lui voleva fare il tagliatore degli agli oli agli oli e il gianni l'ha convinto a fare i quizzer giorgio branduardi famoso per gli sketch di alibaba handicap che ha avuto le poliedriche con gli arabi che stavano succedendo cose dei turchi maz cataldo il trombettiere con le sue massime la paesane non proprio di città marisa la cugina del signor alberi che parlava probabilmente si riferisce alla laurito sempre delle male anziane delle mail che parlava parlava sempre delle mele anziane e che aveva il problema che la siglia va del fidanzato scamorza simona marchini la segretaria telefonica di alberi che parlava più spessamente al telefono fa la pubblicità la televisione farà anche con fortunato pasqualino e con i suoi figli la storia dei pupi silvia anna chiari attraattrice al femminile brava vocalis sin dalle elementari ha dimostrato grande preparazione nelle vocali l'araba felice fidanzata di allarme che ballava tutta nuta con l'obelisco nuto e poi niente poco di meno che ultima attrice su bret del programma la biondina che ballava dietro le spalle del maestro la mazza e che nessuno ha mai saputo chi era francesco scali il gobista che visto il successo del programma di tutti quelli che vcb hanno partecipato che vcb hanno partecipato fa le serate di cabaret va nei locali con il gobbo con le barzellette schitte lui non fa niente la gente le legge e ride è stato scritturato per 200 film plurale specificare quando il plurale penultim in fundum tutti i musicisti antonio e marcello il complesso della vergogna il new 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 elastic esagerate orchestra per conchiudere con i ringraziamenti anche al collego riccardo battipaglia che una persona preparata al centro preparata al centro per centro era ritenuto il fisiologo della notte che sa il b e il ba delle cose molto ricercato da per dunque fa i film con edoardo de crescenzo e il film se sparato in casa il professore battipaglia anche il recorder su quanto scrive ha scritto il brodo cordiale poi scrive comportamenti comportaneamente sui messaggero messaggi e il mattino sull'europeico su il giornale del pone cattolica di bisceglie va su il giornalino studentesco dell'istituto iacci suor sale dante alighieri per ragionieri di ancona su oggigiorno su oggi come oggi eccetera ultimo in fondo grazie della collaborazione e azione del collego maurizio fellini il venditore di pedalini famoso per le sue frasi stoiche e espressioni del tipo non capisco ma mi alleno lo dice l'aggiornamento stesso abbiamo le mano eleganti noto anche per le sue fissazioni sugli spuntini russi ha molto successo anche nelle serate di cabaret che fa palladino di spunti sputinic 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 che fa no che fa parlando parlando cioè non parlando parlando di sputinic sputinic che però quelli delle prime file un po cucci si seccano perché sputinic parla dello sputinic 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 visto che il russo no parlare di piace negli aperitivi giusti parla dello sputinic era scuta associazioni grazie a tutti in specialmente al mondo specialmente al mondo ai tecnici a tutti quanti hanno riuscito alla riuscita della riuscita del concorso che non è riuscito ma la diffugazione di sani gesualdi cioè tutto si passa sugli strafaccioni e gli errori grammaticali sani si infastidiva anche se era una persona camma lui si arrabbiava si irritava come un topo si infuriava come un bufalo gli venivano i 15 minuti storti per il disinteressamento disinteressato cioè l'interessato disinteressato per capirci il disinteressi disinteressamento per il concorso e peggio che leggere dante alighieri perché almeno con dante alighieri non so alla fine un pochino meglio parli con il libro di sani gesualdi di saprete a legge dopo che l'hai letto con somma concentrazione più leggere in italiano diciamo che quasi passava in soldina a di eritura un giorno verso 3 forse erano le quattro massimo le cinque le sei comunque per ucchi anche le sete o le otto parte della luna del mattino si arriva a metanotte gli vici arrivo una telefonata anonima con un accento chiaramente romano che lo poteva lo prendeva in gita ecco perché non è stato più recitato questo libro a parte che c'è dei riferimenti all'epoca personaggi dell'epoca comunque è così elementare come il libro che è difficile da leggersi sani fra se in sé pensabbe a questo telefonatore romano lo debbo pizzicare infatti esco egito un sistema bellucci per pizzicarlo questo sistema lo chiamo il sistema bellucci per pizzicarlo si messe al telefono con una rubrica telefonica di roma e telefonò a tutti i romani che hanno il telefono dalla a alla z cercando di ricordarsi bene la voce del telefonatore romano risultato ci costò un occhio della testa ma in compenso non capì mai che gli fede quello scherzo facevano male a fargli gli schizzinosi gli schizzosi con sani prima per il rispetto poi per la persona che non meritava lui che si era impegnato per gli altri uno che pensava agli altri un altruista uno che si occupava degli altri anche quando gli altri non volevano che lui si occupasse di loro era la tipica persona che si incontrava una vecchietta gli faceva attraversare la strada magari poi la vecchietta era costretta a tornare indietro perché non serviva attraversare ma lui lo faceva è meglio rivivere un giorno da leoni o cento anni da pecora in fonti in fonti le azioni di sani ci fanno pensare questo ma questo è anche il tema di un dibattito di un dibattito che l'ultimamente ne parlava ne ne parlava me le congiunzioni sono il forte in questo le sbagli e leggi incorrettamente perché devono essere sbagliate e a proposito di questo indovinello ci ho da raccontare un anetto di sani gesualdi era il 9 10 11 12 luglio a 1555 sani passeggiava a scassata dalle 8 30 alle 12 e dalle ore 16 30 alle 9 19 e 30 quando in un incerto punto vive un uomo trissisti e bereflitto con la faccia bereflitta alla cataldo cataldo è un trombettiere che appoggia le trombe dove gli capita prima e parla ai microfoni non suoi ai microffici non suoi sani rivolto verso questa persona gli ci disse tu perché hai questa faccia bereflitta perché non vivi un giorno da leone quello disse sporca miseria hai ragione che bel consiglio e così quella persona vissebbe una vita coraggiosa e bestiale e ci disse a sani ringraziando ringraziando lotto ringraziando lotto grazie sani mi hai consigliato bene ti ci faccio un recalo egli portò un sacco dove seco di cdc si trovavano numero uno un agnello numero uno una pecora e l'agnello e la pecora si ribattevano lavorare stanca questo tema nel dibattito non è uguagli all'altro ma in compenso è completamente diverso se non uguale in compenso il diverso tra le due cose differenti ma si complementa ma di uguaglio a che i nanetti di sani gesualdi cascano asino meglio vivere un giorno di leone ah no questo è l'altro lavorare mi stanca no veramente e lavorare stanca proprio come la poesia di michele pavese comunque per occhi saltando di palo un fiasco parlando e nannettando ecco un anetto che casca a lenticchia su questo tema era il 8 9 10 agosto 1565 circa forse il 3 marzo 1825 ma è con periodo appena breve no sani gesualdi passeggiava nella zona egocentrica della piazza evite un brutto tipo un brutto tipo di tipo un brutto ceffo un omone un cefone che con un giappone tagliava gli agli oli agli oli era molto rassomigliante a cataldo ce l'ha con cataldo in questo capitolo ma non so chi è cataldo sarà qualcuno tipo albero che sarebbe arbore no sani il rivo rivolto al cefone gli di b persona che tagli agli oli vedo che sei stanco prenditi una boccata d'aria vai a passeggio ripostiti un quarto d'ora e fu proprio così che sani gesualdi inventò il famoso quarto d'ora di riposo la persona che tagliava gli agli oli ci disse mi chieda scusi signor sani aspetti qui un momentuccio poi tornò e portò con portò con secco un sacco dove secco c'era numero uno un agnello numero uno una pecorella e la pecorella e l'agnello si ribattavano fine del nanetto altri nanetti riprenderemo il più presto possibile ecco qua finalmente vari tipi di tipi di pecorelli vari tipi di tipi di non bastardo e con le pecorelle le illustrazioni del libro no pecorelle poi mezzo c'è un maiale dice no non è una pecorella e ci sono altri piccoli e corelli diversi pecorella esatta numero 7 pecorella numero 6 piccola numero 6 piccola sbaglio maiale sbagliatamente la figura del maiale l'ha lasciato pieni vecchi di significati sono questi nanetti che illustrano il b e il ba molti volevano secco sani gesualdi per le sue grosse preparazioni enormi che aveva lo chiamavano per parlare nei dibattiti nelle circonferenze però sani non poteva essere in due posti nello stesso momento non aveva il dono dell'ambiguità il momento che devo andare a fare una cosa sono ritornato non vi ho lasciati soli mi spiace di questa breve pausa ma continuiamo però sani non poteva essere in due posti nello stesso momento non aveva il dono dell'ambiguità aveva altri doni ma questo no tutti sei gennaio di tutte le epifanie quando aspettava la befana aspettava questo dono purtroppo non lo riceve qui sani in realtà parlava apparecchio amava parlare dire questo contesto quello amava parlare amava il prossimo ma il suo grande amore in questa sede non l'abbiamo ancora detto era il circo era d'aspettarselo come parlava il mondo circolare lo infascinava era un amore con la m maiuscola dedicò tutto il suo amore al circo lui non amo mai nessuno tanto mai una donna lui non si fidanzacque mai non lo conobbe mai l'amore fisico qualche volta gli piace qualche donna ma fu solo un amore plutonico aveva tanti obli trotto ipica con la y gioco del nascondino gioco dell'onzia panchiappa pulirsi le unghie la musica apre una parente la musica era un vero obli per sani e lui fra l'altro lo sapete fu il promotore del music show del 29 giugno che vedevano la partecipazione estra e ordinaria di les anzianotes 40 ballerine cada una gli 80 anni cada una per un totale di 3.200 anni con minigonne capelli bianchi pantofole molta passione per il ballo con niente dopodimeno che il duo gino e gina con il cantante napolitano rino balconi ricercato dalla polizia si presenterà sotto il falso nome di mario luna co luigi spiccioli cantante in playback che canterà la facciata del suo disco solo la facciata a perché in una radio privata purtroppo gli hanno rubato la facciata b co pietro scaffidi imitatore che nei suoi show ha avuto un altissimo indice di ingrandimento co il complesso gli sconclusi co l'attore giuseppe pambieri attore di radiopiaggio di teatro e cinema si radiodoppiaggio di radiopiaggio che nei film i dieci comandamenti faceva la parte di non ammazzare nel film nel film i soliti ignoti c'era ma non era conosciuto co gennaro la bestia cantante napolitano della sceneggiata che canta confessa cane è sposato a tre figli ha inciso 165 45 giri 3 and plane ha girato sei film e ha fatto otto anni di carcere co il trio punk pena pietà e ribrezzo l'attore americano frank skull che aveva fatto la parte del pugile in per un pugno di dollari la parte del pompiere nel film mezzogiorno di fuoco e la parte del porco nel film porcile co eduarda cantante di musica pop jazz folk liberty del xiii secolo co il cantante ugo maria dieta dimagrante non aveva nessun problema di linea che quando fu scartato al concorso voci nuove di bivonghi era disperatissimo e tentò di togliersi la barba con un colpo di rivoltella co il duo gianna e gianni e reduci di una da una lunga tournée nel portogallo e ispagna dove hanno inciso un disco spagnolo a tre facciate facciata amor stringhi mi fuerti 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 facciata b muchacha caliente facciata c amigos di me corazon por favor che noti e no oro logos eco il cantante antonuccio 5 antonuccio e il diminutivo di antonio 5 e il diminutivo di 15 co arturino moracchia che assomiglia molto in faccia a bobby solo solo che arturino non ha completamente capelli alla barba rossiccia e pesa più di 120 kg canta balla salta imita recita è un tipo che fa più cose un tipo polifemico co luco luci il famoso ballerino di radio 1 il famoso ballerino di radio 1 appunto perché i ballerini ballano le reali tanti e tanti obli aveva sani gesualdi come abbiamo detto la musica il show e naturalmente il circo ma non finiva qua aveva altri obli il franco e i bolli amava ritagliare i ritagliandi dei pezzi giornalistici 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 e le foto di uco pagliaro la corsa nel sacco ci piaceva un sacco bob a 2 bob a 3 a 4 caccia pesca e pera caccia cavallo yogurt e yoga e yogurt questo che caccia pesca pera veramente non ho capito poi caccia cavallo vabbè yoga yoga yogurt eccetera eccetera sani gesualdi amava maggiormente il circo con 90 milioni 90 milioni di lire di allora per un equivalente di 30 milioni di oggi compro tutto per costruire il circo di santa pianta tendone poltrone h attacca panni biglietti d'ingresso carta per la toilette la canna lunga per il rimproverare i bambini i rumorosi durante lo spettacolo poi tutte le bestie necessarie e gli artisti necessari perché diciamolo senza dita sulla lingua sani gesualdi fu la fondatore unico esclusivo de il meraviglioso circus dis case casaccia sani prima di dedicarsi esclusivamente al circo era molto ricco era molto facoltativo aveva i soldi che gli uscivano dalle pallate si rovinate perché si faceva male i conti per attirare le persone ci regalava la magliettina del circo che gli costava 5000 lire mentre il biglietto d'ingresso era di 2000 lire si rovinate fini sulle ostriche ma com'era questo circo questo meraviglioso meraviglioso circus dis casaccia meraviglioso circus dis casaccia co gli migliori artisti delle argo e abbazie tra saltatori e trappezisti ci sono i migliori del mondo e forse dire del mondo è troppo poco un vero sicurone di circo co niente cocò di meno co cento pantere cento puma la donna cannone i pipistrelli austriaci il bue e l'agnello e il gatto è la colpa arturo bella faccia domatore di posters di leoni è unita allo siciliano che si mette davanti a questi manifesti giganti di leoni e tigri e a modo suo dice lui di doma pensate arturo bella faccia è stato più di 12 anni in manicomio criminale le prime le prime volte la gente fischiava e di tiravano le cose in faccia in compenso però poi cercavano di ammazzarlo arturo bella faccia si fa si faceva chiamare a b che sarebbero le sue iniziali e quando usciva per esibirsi stava tre quarti d'ora a spiegare che il suo vero nome era arturo e si faceva chiamare a il cognome era bella faccia quindi b poi spiegava che dicendo a b invece di arturo bella faccia risparmiava di dire arturo e e la faccia questa corsa la raccontava due tre quattro cinque sei volte tutti capivano e lui insisteva nel rispiegarglielo perché era convinto che gli altri non lo capivano risparmiata io vant diceva dopo fu presto cacciato da tutti i cerchi d'italia dopo ci fu un certo migliorio e c'era ancora la donna senza testa che si dimenticava sempre di andare a esibirsi ecco hercules uomo più forte del monto con la mano di ferro e la mano di ciao che quando doveva salutare un qualche amico e ci doveva stringere la mano lo mandava al spedale co ivan il tremendo vero nome di ivan il tremendo era carl il terribile e giovanissimo a 17 anni salernitano ma però è veramente brutto poveraccio non si esibisce fuma molto e beve vischi con ernesto kalindri che fa la pubblicità con l'elefante di gesso co emil indecisius indecisius emil indecisius è un acrobata un polacco un po lacco e un atleta indeciso entra in pista e non sa se fare i salti mortali normali o i doppi salti mortali oppure camminare sul filo e fare l'equilibrista oppure falche fare qualche numero al trapezio per tre quarti d'ora sta in pista il pubblico stanco grida emil che fai che ci fai deciditi co il bue la sinnello e i tre magi oro vincenzo e birra co il mago fenomeni con i suoi poteri faceva partire il pullman il pullman la cosa sensazionale era che nessuno si accorgeva che era lui che li faceva a partire questi pullman che se ne andavano col suo bell'autista e facevano tutte le fermate normalmente pensare che potere no che dopo ci fu un certo migliori o quando meno male che era per colpa di bilito che è fallito il circo arrivarono i clowns primo fra tutti il clown buffone e clou clou dello spettacolo giovanni sparacino di catanzaro provincia di catanzaro e reggio calabria nome d'arte cocò era enormemente apprezzatissimo dal pubblico che alla fine di ogni sua esibizione lo chiamava buffone 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 l'esibizione di cocò consisteva nell'entrare in pista con la camminata la chariot poco rassomigliante anzi sembrava un poco sandro paternostro e raccontava tutte le sere le stesse barzellette sandro paternostro è stato un giornalista un inviato speciale della rai basta cercare il youtube passa un elicottero perché si chiama elicottero se li indica un posto e elicottero se qui è equicottero e giù a ritere a buttarsi per terra lui solo del ritere altra barzelletta di cocò passa un edicola anzi vedo un edicola chiamo uno e i dico e i dico lei e i dico lei e fu così che l'edicola si chiamò edicola risate a bizzefe a crepa pelle il pubblico del ciclo in sala e schema e si chiamava poverino poverino dava pena al pubblico in fonti in fonti cocò era un bravo ragazzo il fratello di cocò si chiamava lorenzo ed è completamente diverso da cocò è una persona seria che io lo conosco benissimo mente ci frequentiamo spessamente lorenzo conoscendo la mia preparatività la mia cultura io dico spesso il sbagliare e dei sbagliatori il sapere e dei sapitori mi proposte giorni orsi sono questo acquisito e meglio è meglio essere ricchi e malati o poveri e in buona salute lorenzo caro nino tu che ne pensi nino a proposito di questo indovinello lavorare mi stanca lorenzo di questo ne abbiamo già parlato a proposito di questo scioglilingua questo non è uno scioglilingua nino meglio tu povero e malato e io ricco in salute lorenzo veramente non è questo nino e uguaglio e uguaglio comunque per un chi ho proprio un aneto di sani gesualdi che casca sino su se è meglio essere ricchi e malati o poveri e in buona salute era il 11 12 13 luglio 1600 1567 sani gesualdi stava passeggiando quando vide un malfattore un delinquente con la faccia da ladro a tipo cataldo quel trombettiere che appoggiando la tromba sul mio ginocchio mi ha fatto diventare un ginocchio a tipo ginocchio con la tromba appoggiata questa persona malfattrici rubava portafogli rubava documenti rubava ori cataldo direbbe era ladro la persona malfattrici rubava argenti rubava preziosi rubava pezzi di legno pietri pezzi di cartone voi direte e che se ne faceva dei pezzi di legno di cartone io vi rispondo non lo so comunque per un chi anzi per un chi e comun chi questa persona si richi si richi moltissimo divenne ricco poi rivolto si verso sani gesualdi gli disse sani gesualdi io sono ricco perché mi sono richito però purtroppo ci ho le malattie o una malattia dopo l'altra vorrebbe guarire a costo di stare bene perdonimi tutto il male che ho fatto finirò di rubare pietre cartoni pezzi di legno finirò di rubare portafogli documenti portafotografie ori argenti e lumini perdonimi al cento per cento sani gesualdi rispose caro mafattore comportiti bene di ora e poi allora esso il mafattore cambiò un mestiere il mestiere non rubò più mandò i figli a rubare a posto suo e cambiò mistiere e febbe per alcuni anni il tagliatore di agli oli poi mi fece il pastore povero che portava secco un sacco e nel sacco cera secco numero uno un agnello numero uno una pecorella e ormai lo sapete la pecorella l'agnello si ribattavano un momento che vi devo distrarre dalla natura vengo subito sono arrivato a pagina 39 grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie. 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 A parte l'indice e tutti i nomi, ecco, fino a questa pagina, 172, dove l'ultima pagina non si può leggere perché è rimasta bruciata, l'hanno pubblicata bruciata, no? 172, facciamo subito qua il calcolo con la calcolatrice, 172, un promedio di 20 pagine in 8 volte, quindi sarebbero 20 pagine e 40 minuti, una ora facciamo, sono 8 ore,6 di letture. Io, per soddisfare il mio pubblico, che vuole a tutti i costi che io lega l'opera di Nino Frassica, il libro di Sani Gesualdi, perché non si trova più, ben volentieri mi sacrifico, perché poi è divertente leggere quest'opera, però già ho fatto quasi due ore, ma farne 8, sinceramente, io sono sempre tentato di leggere quest'opera, però l'altra volta mi sono filmato con questa vecchia filmatrice, che non riesco a usare l'USB2 del mio computer, quindi, poi si creano degli archivi pesanti, un gigabit per filmare mezz'ora, adesso uso questa vecchia vecchia camera, forse finirò utilizzando il mio cellulare Galaxy Yung 5360, però, ecco, per il momento, forse la settimana entrante leggerò qualcosa, forse no, perché è tutto il poter leggere con abilità, e poi l'impressione che ti provoca leggendo, lo sforzo di leggere non mi fa pensare in quello che leggo, a volte uno si distrae e legge normalmente, perché è abituato a leggere in un italiano corretto, e invece devi apprezzare i giochi di parole, è meglio leggere il libro piuttosto che sentirlo. E poi un'altra cosa che vi dico, ci sono molti interpretazioni di Nino Frassica facendo di Sanni Gesualdi in internet, perché lui andava nei programmi di Renzo Arbore facendo da Sanni Gesualdi, quindi lui stesso si faceva concorrenza a se stesso quando andava indietro tutta interpretando Sanni Gesualdi. Io ho trovato degli sketch, per esempio, che lui recita in 15 minuti, soltanto sulla controversia se sia meglio essere uomo o donna, che appare in questo libro, ma lui lo recita, e lo recita in un altro modo di quello che posso leggerlo io, e quindi vi invito, perché forse non farò più una lettura di questo libro, bisogna interpretarlo bene, e l'autore lo sa interpretare meglio di me. Vi invito a cercare, poi io cercherò magari dei link per mettere nella descrizione di questo video, dei video di Nino Frassica che fa Sanni Gesualdi. Beh, vi lascio, spero che vi sia utile questa mia lettura del libro di Nino Frassica, ho fatto il possibile per condividere con tutti voi questo libro che non sta più in edizione, non ho purtroppo il dizionario di Nino Frassica, dove lui spiega il suo linguaggio, perché parla così. E poi c'era anche il terzo libro di Nino Frassica, che è uscito veramente, ha fatto il libro di Sanni Gesualdi e il terzo libro di Sanni Gesualdi, poi un vocabolario. Però poi non credo che siano stati ristampati tutti questi libri, perché molto umorismo è così, distorsione dell'idioma. Poi un'altra cosa, che ha fatto delle aneddote sull'epoca in cui ha scritto e personaggi in cui ha scritto, quindi magari molti personaggi della Rai non ci sono più, molte situazioni sociali non sono più le stesse, e quindi se lo ripubblicano, lo ripubblicherebbero per un pubblico giovane, che in quell'epoca magari non era neanche nato, o era molto giovane, e non apprezzerebbero i giochi di parole e tutto quanto il resto. Quindi è un libro che ha fatto storia televisiva nell'epoca. E adesso magari bisognerebbe vedere se la Longanessi e Company lo ripubblicano. Magari dopo le mie letture la gente scriverà alla Longanessi e Company chiedendogli la ristampa del libro di Nino Frassica e Libro di Sani Gesualdi. E una mia proposta, a quanti mi vedono e vorrebbero leggere il libro, scrivetegli alla Longanessi e Company oppure scrivetegli a Nino Frassica, che di tasca sua ripubblichi il libro. Adesso si è convertito in un attore semiserio, serio, fa più da carabiniere, da prete, da postino, da posteggiatore, non so, da avvocato. Non fa più ruoli come, i bei ruoli che faceva negli anni 80 e 90, soprattutto 80, quando io ero giovane, quando voi magari non eravate nati, che mi guardate, che avete magari 25-30 anni, ecco io ho 46, 45, sono nato il 26 gennaio, quindi ho 45 anni ancora. E quindi molti di voi non sanno di quel periodo, però vorrei rinfrescarvi un po' anche con altre cose della televisione e della letteratura di quell'epoca, quindi diamo un taglio con il libro di Sani Gesualdi e mi raccomando, cercate in internet, perché io ho visto qualcosa realmente bestiale, formidabile di Nino Frassica recitando le sue barzellette, magari non le recita nello stesso mondo in cui sono scritte, però è meglio guardare lui che più, cioè lo interpreta bene il suo ruolo. Allora vi lascio, ciao, saluti a tutti. E poi vorrei sapere, caro amico Pietro Trevisan, se tu sei qualcosa, se tu hai letto, che hai letto di tutto, il libro di Sani Gesualdi di Nino Frassica, e che ci puoi dire su questo genere di umorismo dialettale, se hai delle letture affini, se hai letto Pino Caruso, L'uomo Comune, se hai dei libri umoristici, tu che sei un serio studioso e filosofo, tu che ti occupi sempre di temi così seri, oppure di libri balenghi, se invece hai anche delle letture, come questa, o letture comiche, anche straniere, non so, qualche cosa di umoristico nella tua biblioteca che ci possa legge, raccontaci qualche barzelletta, ti vediamo sempre serio, ti vediamo facendo il nudista, ti vediamo facendo tante cose, però mi piacerebbe, visto che ti seguo tanto, anche in cose religiose, io che sono ateo, mi piacerebbe sentire delle barzellette da te, sarebbe veramente molto esilarante, così saresti realmente completo, raccontaci delle battute umoristiche, delle barzellette, delle aneddote, voglio sentire delle barzellette da Pietro Trevisan, dal mio amico Pietro Trevisan, vediamo, che barzellette, qual è il tuo umorismo, hai letto Woodhouse, hai letto Nino Frassica, hai letto, che ne so, che vedevi alla tele, Noschese, Aldo Fabrizi, qual è il tuo umorismo, Raimondo Vianello, che ti piaceva di più vedere da giovane, da bambino, cioè più o meno, non so se hai la mia stessa età, quando eri giovane, che vedevi della tele, Franco Franchi Cicciangrazia, Benny Hill, raccontaci un po' la tua vita umoristica, il tuo versante comico, quello che ti piace di più, io più che barzellette, più che ogni tanto mi vescono delle freddure, sono molto contenuto, io quando sono rilassato, per cui dico freddure, più che barzellette, comiche, ah no, io c'ho la freddura, tu invece sei per la freddura o per la barzelletta, ecco raccontaci, sei più anglosassone o più latino in questo, o non so, slavo, arabo, non so come sono gli umorismi, beh, allora vi lascio, ciao, è stato un piacere, dal vostro Sant'Encian.